C'è non solo una ripresa ma un trend in continua crescita perché luglio 2022 registra circa un 10% in più sia di presenze ma anche di incassi rispetto a luglio 2021 ed è soprattutto una crescita ben percentualmente più abbondante rispetto al 2019 che è un po' la nostra cartina di torna sole perché poi ovviamente c'è stato il covid con tutte le conseguenze anche sulle chiusure dei musei. L'assessore alla cultura del comune di Vicenza sottolinea il trend più che positivo per l'afflusso turistico in città attraverso i numeri dei visitatori nei musei che confermano Vicenza città della cultura e se in provincia le bellezze naturali della montagna stanno decretando un agosto da tutto esaurito sull'altipiano e in generale nelle località più rinomate le bellezze culturali della città del palladio stanno attirando sempre più visitatori. Il numero delle presenze di turisti supera ampiamente i dati del 2019, ultimo anno di riferimento pre-covid. Quasi 12.000 accessi all'ufficio informazione e accoglienza turistica in piazza Matteotti contro gli oltre 7.000 di tre anni fa. A sostegno e valorizzazione della proposta culturale il comune lancia l'iniziativa a musei gratuiti le domeniche di agosto. Domani anche per i vicentini della provincia sarà possibile accedere senza pagare il biglietto alle gallerie di Palazzo Tiene, al Museo Naturalistico e Archeologico, al Museo del Risorgimento. È un'iniziativa in realtà del Ministero, le domeniche al museo, Vicenza le ha sempre fatte le domeniche gratuite, stiamo continuando a farla, devo dire che ha molto successo soprattutto per le famiglie perché è un'occasione per poter andare gratuitamente magari con i bambini anche perché noi ogni volta cambiamo i musei che sono gratuiti. Un andamento che incoraggia anche gli investimenti sul fronte del turismo in città. Le code agli infopoiet confermano la bontà della scelta di vicenza tra le città d'arte proposte. A luglio le presenze straniere negli hotel cittadini hanno superato quelle italiane. Investire in cultura paga. Chiudiamo un mese di luglio con un trend in continua crescita, 25.500 circa le presenze in un luglio, tra l'altro caldissimo, quindi insomma sono numeri che danno molta soddisfazione anche perché c'è stato l'ingresso di Palazzo Tiene che devo dire viene visitato con molto curiosità. Tanti turisti sia un po' da tutta Italia, sia dalle regioni del nord che del sud, ma tantissimi stranieri, in particolar modo Francia, Germania e Belgio, amano ultimamente moltissimo Vicenza e noi glieli siamo grati.